Buongiorno a tutti, buon giovedì, c'è davvero tanta tanta delusione. Delusione misto rabbia, misto arrabbiatura, perché questo Milan aveva tutte le possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia, rendere la stagione un po' più pimpante, un po' più entusiasmante, vista che è già stata costellata da tantissime delusioni, l'esclusione dalla Champions League, i derby persi, i 9 punti di differenza con l'Inter, sconfitte e pareggi che hanno minato il cammino della squadra rossoniera in campionato e ora anche l'esclusione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta di Gasperini, che neanche un mese fa aveva vinto 3-2 con la sua Atalanta contro il Milan, quindi neanche la rivincita c'è stata tra Milan e Atalanta, diciamo così, tra Pioli e Gasperini. Lo diciamo subito chiaramente, ragazzi, è inutile che poi ci siano polemiche anche nei vostri commenti. La colpa di questa sconfitta, metà va attribuita agli arbitri e al VAR, quindi episodi arbitrali, episodi che hanno inciso sul risultato e sulla qualificazione, perché comunque il rigore dato è un rigore molto, 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 molto generoso, quello all'Atalanta, in più c'è il fallo di mano, ma analizziamo tutto, ma bisogna essere anche onesti intellettualmente e sinceramente non si può dire solamente che il Milan è stato escluso dalla Coppa Italia solo per episodi arbitrali. Bisogna essere onesti intellettualmente, bisogna dire che il Milan continua ad avere un difetto di gioco, la squadra rossonera gioca male e poi soprattutto gioca solamente per un tempo o 60 minuti e poi crolla, poi si ferma, poi spegne la luce, poi non continua più a giocare. Il primo tempo è stato un primo tempo ben organizzato, secondo me, dal Milan, dove non ha creato tantissime occasioni da gol, ma aveva la partita in mano, soprattutto nella prima fase. Era riuscito anche a trovare il gol con una bellissima combinazione tra Leao e Teo, con Teo che poi ha servito nuovamente Leao per il gol dell'1-0 e invece di andare a riposo a fine primo tempo in vantaggio dopo 30 secondi subisci gol. Lì non c'è l'episodio arbitrale, lì non c'entra niente il VAR o l'arbitro di Bello, lì è un piazzamento balordo della difesa e del centrocampo che lasciano Olm crossare, servire in area Coppemainers che segna un bel gol. Lì è un errore tattico e difensivo del Milan e se tu chiudi il primo tempo sull'1-0 vivi un'altra partita nella ripresa, vai invece sull'1-1 e nel secondo tempo poi, qui arriviamo al dunque, c'è un episodio secondo me comunque grave perché non c'è rigore su Miranchuk, Jimenez tocca prima la palla e Miranchuk se ci fate caso, quando Jimenez tocca la palla e fa l'intervento sta già tentando il volo, sta già, si sta già tuffando, è già in volo e questo deve essere visto al VAR. Sono state dure le reazioni del mister, mister Pioli, di Giorgio Furlani, l'amministratore delegato, lo stesso arbitro Cesari, nella moviola di Sport Meneset, dice che non c'è contatto, non è fallo e quindi non si capisce come mai abbiano fischiato questo calcio di rigore che ha inciso sulla partita. È ovvio che se il Mia gioca male ma il risultato è ancora sul pareggio, si può sfangare con una deviazione in area di rigore, un'azione individuale di Pulisic, di Leao, ma quando passi in svantaggio è ovvio che poi si fa più dura, ma è brutto passare in svantaggio quindi sul 2-1 con un episodio da rigore che secondo molti non c'è. E quindi la rabbia, la rabbia di Pioli, la rabbia di Furlani, Pioli dice io dal campo non avrei fischiato rigore su Jimenez perché ho avuto la sensazione che Milanciuk si fosse buttato, per me non è il rigore e faccio fatica a capire come mai si è stato confermato. Parole chiare, dure, un Pioli nervoso, arrabbiato da questo punto di vista sugli episodi arbitrali. Non ho mai visto, tra l'altro poi c'è stato anche l'episodio del colpo di mano su colpo di testa di Simic in area di rigore dell'Atalanta, colpo di mano praticamente al risultato acquisito, a partita ormai conclusa, però lì lui dice anche qui faccio fatica a capire come mai non andare almeno a rivederlo, dice Stefano Pioli su questo colpo di braccio, di mani, a fine partita, a favore del Milan, lì Milan poteva pareggiarla su calcio di rigore e poi si andava ai tempi supplementari. Quindi episodi che hanno inciso sul match, che hanno portato Furlani e Pioli, sono stati i due a parlare, ad essere davvero incavolati, incazzati, arrabbiati per quello che è successo contro l'Atalanta. Lo stesso Leao sui social sottolinea incredibile, dice incredibile quando voi vada ad analizzare il fallo da rigore di Jimenez su Milanchuk facendo appunto vedere come Milanchuk si fosse già tuffato, si fosse già buttato in volo prima ancora di essere toccato da Jimenez. Quindi l'aspetto arbitrale conta, l'aspetto arbitrale esiste, ma non esiste solo quello. Perché ribadisco, il Milan queste partite deve affrontarle con altro piglio, altra intensità, altra voglia, ma poi d'altronde in campo c'erano comunque diversi titolari, ragazzi. Non è che il Milan ha fatto una rivoluzione e ha messo in campo solo i giovani della primavera, come invece è accaduto contro il Cagliari. In Porta c'è la Mignan, in difesa Teo Hernandez a centrocampo, Loftus, Muser, Reinders in attacco, è praticamente quello titolare, tranne il cambio Jovic per Giroud. Il Milan ha giocato con giocatori titolari. Il Milan doveva e aveva l'obbligo di arrivare in finale, ribadisco non solo per una questione economica che ti porta soldi, perché poi partecipi anche alla Supercoppa italiana e lì sono altri soldi e un altro trofeo a disposizione, ma perché con una Coppa Italia in cui ci sono solamente Juve, Lazio e Fiorentina, che poi ovviamente devono scontrarsi tra di loro, il Milan se vinceva contro l'Atalanta giocava contro la Fiorentina, quindi comunque aveva possibilità di arrivare in finale, non puoi buttare questa occasione, non puoi farlo. Chiudiamo il video con il mercato, perché ieri abbiamo detto che l'operazione Popovic è praticamente saltata, l'operazione Popovic non si farà, al Milan non è piaciuto l'atteggiamento dell'entourage di Popovic prima nel chiedere più soldi, quindi per la questione commissioni, ma anche per questo viaggio non concordato con il Milan per provare a forzare la mano, a portare Popovic a Milano, sostanzialmente è stata una mossa che invece di ottenere benefici ha ottenuto risultati contrari, risultati opposti, cioè quello di far rigidire il Milan, di far incavolare il Milan e l'operazione è praticamente saltata. Ieri sera ci è arrivata anche la conferma dal club che non si andrà avanti nella trattativa per Popovic. Invece è in chiusura l'operazione Krunic con il Fenerbahce, perché il Fenerbahce ha alzato la proposta economica e è arrivato ad offrire 5 milioni di euro. Dunque, con l'aumento della proposta economica, il Milan ha praticamente accettato prendere questi soldi. Il saluto è arrivato addirittura da Giorgio Furlani che ha detto che dovrebbe essere tutto ok con il Fenerbahce, ha utilizzato ancora il condizionale perché sapete che fino alle firme sono molto cauti in sede a casa Milan. Dovrebbe essere tutto ok un in bocca al lupo a Krunic per questa sua avventura al Fenerbahce, ha detto Furlani a fine partita, proprio a sottolineare che si sta per chiudere in definizione quindi la trattativa e l'operazione Krunic con la squadra turca. Lui voleva andare lì e alla fine è andato lì, ma il Milan ha guadagnato qualcosa in più rispetto alla prima offerta del Fenerbahce. Quindi operazione Popovic che salta, operazione Krunic che invece va in porto, il Milan guadagna soldi ma perde un altro giocatore. In teoria il Milan potrebbe anche andare sul mercato e ora comprare un altro centrocampista ma ho l'impressione che Terracciano venga utilizzato dal centrocampista. Anche ieri quando è entrato contro l'Atalanta all'esordio con la maglia rossonera ha giocato al posto di Jimenez a centrocampo perché il Milan ieri tatticamente ha schierato un 3-4-3, 3-4-1-2 e evidentemente Terracciano ha giocato a centrocampo sulla sinistra, sulla fascia sinistra al posto di Jimenez però è un jolly, può giocare in qualsiasi posizione del campo in difesa e a centrocampo. Tanta delusione ragazzi! Iscrivetevi, mettete like, attivate la campanella ma questa esclusione del Milan dalla Coppa Italia porta amarezza, molta amarezza.